Allora, ringraziamo Massimo, ci affettiamo una decisiva affermazione che il governo della città resta nelle sue mani. L'ultima battuta all'onorevole Stefano Caldò. Allora, io, sentendo Massimo, è chiaro che io devo fare un lavoro difficilissimo, perché nascondere nessuno alla punta magica di risolvere i problemi dalla sera alla mattina, per risolvere i problemi di tanti e tessi di lavoro, intanto distinguiamo due questioni. Noi in Campania, in Campania, e quindi io sono venuto ora, per esempio, da qualsiasi comune vede, noi teniamo e rinigliamo per tutti i motivi, per la politica sbagliata regionale, ma anche per la risposta collettiva che c'è l'europeo-italiano, perché la crisi è in crisi da tutte le parti. Noi soffriamo di più, perché dove c'è più tempo non si soffriamo di più. Noi abbiamo attualmente, registriamo il 45% di soffubazione giovanile, quindi tenete presente 40% di città. Noi abbiamo attualmente, ho l'attualmente, ho capito, ma guarda tu qua, non mi noto solamente a non dire così, io ti devo spiegare le cose, tu hai parlato con te, se no non risolviamo i problemi, guarda, e tu hai per nessuno la pacchetta, allora qui potremmo dire centinaia e centinaia di queste strutture, migliaia di queste strutture per i problemi che abbiamo, allora quei problemi si risolvono, e si possono risolvere, e non si venire, né nessun effetto, nessuno mette, se non si so i problemi di tutti. Va bene? Perché la disoccupazione è un problema che risolveremo, e mi auguro che risolveremo, ci avremo sui tanti anni, noi possiamo rispettare tanto a non incrognare le persone. Abbiamo più quello sull'accordo, nel senso che non si so i problemi di tutti gli anni, e allora quando c'è un'occasione non si rispetta, non la premotenza, non si rispetta le regole, le regole che sono, soprattutto chi vive un territorio, dice se ci sono delle occasioni di lavoro su mio territorio, bisogna prima essere attenti, essere occupati di casone, meno che sono occupati di una zona che viene da l'altra parte. Questo è un problema, così come sapere quelle cose che si fanno, perché molte volte uno non ha neanche conoscenza, e allora deve dire che cosa si sta facendo, come si sta migliorando la situazione, perché se vedi uno in più, uno in più, e ci ha fatto qualcosa. Ora che cosa possiamo fare se si lavora bene, dove non è scontato niente, perché continuo a dire, io l'ho fatto in tutta la mia campagna elettorale, guardate, io ero candidato, presidente della regione, ogni volta che avevo discussioni del genere, io mi mettevo dall'altra parte di voi. Allora, ci mettiamo insieme, non c'è nessun impegno, io non voglio essere votato, io voglio parlare seriamente, va bene, io sono venuto qualche a sole, e chi lo sa, sono venuto in tante, tantissime occasioni, ho fatto centinaia di incontri, quindi in tutta la mia vita vita, non è che vengo nelle campagne elettorali, vengo sempre, sono venuto anche per la vita, certo vengo quelle campagne elettorali, in giro quelle campagne da, ci mancheremo. Ma lo faccio nello stile di risolvere queste questioni, tutte queste questioni spero di risolvere qua, con quelle possibilità di governare con la regione e di creare occasioni vere di lavoro, che sono occasioni produttive, nel senso che quando ho fatto prima accenno alle aree industriali che smette, cioè creare occasioni di lavoro, che significa lavoro produttivo, in quel lavoro sicuro che una volta che ce l'hai, tu non è che vieni di perderlo il giorno dopo, e questo è il punto, e la politica si risuola su queste sfide, non si può misurare su quello che viene a dire, non si preoccupare il problema di risolvo, ma figuriamoci, perché quella è la questione di cui dovete diffidare, perché la questione è così seria, ed è abbastanza rosa, basta girare per il nostro territorio e capire come è stessa la situazione, però il risultato di chi fa bene la politica è quello che porta a casa, dal punto di vista di più occasione di lavoro, più occasioni per chiunque di poter vivere il proprio territorio bene, meglio, dal punto della nostra ambientata, della salute, della sanità, e chiaramente della credito, perché è evidente che le risposte primarie sono, se io non ho costi meglio, non è che mi interessa se ho un giardino pubblico o più dopo, però le risposte vanno date a 2,6 gradi. Noi dobbiamo, ed è una sfida alla quale non chiediamo fiducia nei termini di rapporto più di tanto, perché possiamo fare anche 100.000 incontri, possiamo parlare dei tanti problemi che avete, che sono problemi specifici, e che lo possiamo fare in tutte le città della regione, in tutte le città della regione, perché la situazione è difficilissima in tutte le città della regione. Il problema è dire che mettiamo in campo un rapporto di distrazione, e la distrazione si fa giudicare sulle tali cose, che fa, e i risultati che porta, che continua a dire, non saranno risultati che possono risolvere i problemi di tutti, mettiamoci in testa questo, ma sicuramente potrebbe essere un giudizio finale, cui dice, però, diamine, come stavamo prima, giudichiamo, chi ci governa, che oggi possiamo dire che siamo meglio di come stavamo chiedi. Ed è una grande imprezza, già questa è una grande imprezza. Quindi è evidente che noi possiamo mettere in campo, e io sono qua per questo, non per altro, non sono interessato, ma neanche Massimo, a dire vogliamo migliorare le condizioni di vita di tutte le nostre città. Massimo è interessato a governare e migliorare le condizioni di vita di ogni cittadino, a partire da chi ha bisogno, della città di Casone. Quello è il suo spirito, non è una cosa. Io e questo spirito, io e questo spirito, io e questo spirito, sostengo Massimo, perché so che nella sua destra c'è questa volontà, e quindi possiamo mettere in campo tante iniziative di carattere produttivo che la città di Casone, e il comune di Casone, merita e ha un bisogno. Questo è quello che vogliamo fare. Poi, uno si mette in gioco rispetto al risultato che porta, e in questo non ci sta niente da fare, quel politico che sbaglia, va a casa. Anzi, quello che dico sempre agli altri, avete sempre, sì, ma va bene, ma ho capito. L'unica cosa che ti puoi fare è quando ti fa a casa. L'attesa dico, quando dire, se hai fatto di peggio, vai da un'altra parte. Quindi il giudizio degli elettori, per fortuna, visto che non è la carica vista, ogni qual cosa si incontrà a giudicare, l'elettorato giudica se non ha fatto bene o male. Io, nella mia esperienza, che ho, ma con tanti linguiceniani, io ho visto tanti giudici che hanno deciso di animare, che hanno deciso di animare, per tanti anni, perché vuol dire che qua ci conoscere la loro città. Certo, non ho visto le problematiche di tutti, però mi sono vero il problema della maggioranza cittadina. Il loro consenso è una maggiore, quindi questo si può fare, e il giudizio va sui fatti. E quindi, continuo di conferire, siamo qua per risolvere i problemi, soprattutto di chi ha più bisogno, di creare condizioni di trasparenza, prima di tutto, e di garantire un mercato del lavoro, che visto che poco, deve essere fatto con regole certe, con trasparenza, per dire soprattutto da chi ha più bisogno. questa è una condizione di impegno e su questo non saremo misurati per i nostri obiettivi. A voi e a voi. Grazie. Grazie. Grazie.